Io ho finito il liceo scientifico e ho scelto relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa e vengo da vicino a Venezia e ovviamente mi sono trasferita anche io qua a Milano perché ho scelto il corso, perché mi piace la comunicazione, mi piace relazionarmi con le persone e mi piace anche il mondo della pubblicità che è quello che un po' stiamo studiando anche in questo primo anno.